Potete assaggiare, appunto, annusare a primo naso, in particolare che si riconosce che è esattamente la stessa uva. Ovviamente in un caso freschissima, diciamo ovviamente la bollicina, nell'altro caso ovviamente passita un anno in più di differenza, ma chiaramente il carattere varietale, questo profumo dolce caratteristico del proprio uno dei pochi vitigni primari, cioè l'uva profuma come il vino e si mantiene comunque lo si lavori. Ecco, dovete dire, il colore ovviamente è dorato, chiaramente l'affassimento, l'agentazione, lo zucchero stesso lo rende chiaramente più riflesso della luce in maniera particolare, cioè ha questa componente ovviamente anche molto più mediterranea, molto più sole, ovviamente ci basta quasi mille chilometri in linea d'aria. Se dite appunto già al naso, comunque se pensate al classico basilico-pantilleria è già molto diverso, perché non c'è la classica albicocca, la classica note mielate, questo ha già al naso questa mineralità che ci diceva Pierpaolo, già viene fuori al naso questa nota leggermente affumicata, un pochino particolare, un po' gessosa, che ce lo fa spiccare già in maniera notevole. Poi ovviamente, chiaramente il miele di figlio, magari appunto qualche frutta tropicale, la papaya, il cedro, ci sono queste note un po' classiche del vino passito, però diciamo che la prima nota, specie venendo dal Galarei, è proprio questo aspetto minerale che già sente al naso. Quando lo bevete appunto è un vino ovviamente estremamente dolce, siamo quanti grammi di litro di zucchero? 160, 160 grammi di litro è un'enormità, insomma è veramente uno sciroppo, quindi non sarebbe bevibile appunto se non ci fosse la controparte sia l'acidità ma anche la mineralità che lo legge. Chiaramente lo abbiamo servito molto freddo, ma a questa temperatura è estremamente piacevole. Vedete la bocca come rimane, come si allarga, viene fuori poco la scorza d'arancio, viene fuori le sensazioni floreali, le sensazioni a un po' di nocciola, a un po' di mandorle e questo substrato minerale salino che lo rende piacevole. Ovviamente rispetto a Galarei non è che ne bevi due o tre bicchieri, ovvio, ma lì c'è una settimana di alcol, qui siamo a 12. però ecco, la cosa importante è sentire come il terroir di noto, quindi molto diverso dalla pantilleria, reagisce in maniera molto diversa, anche se l'uva è abbastanza simile, però ecco, abbiamo un passito nel sud che stacca un po' dalla... appunto ce l'hai poco purtroppo, gira poco, si trova in Sicilia, è uno scato di noto veramente raro, per fortuna sta piacendo e quindi si sta un po' moltiplicando. noi già fortunati, grazie a noi Pierpaolo che ci ha portato qui stasera, per me non era una scoperta, però insomma... Se volete fare qualche domanda più tecnica...